Gentili telespettatori buona giornata, sondaggio termometro politico sulle intenzioni di voto. Fratelli d'Italia al 29,3%, il PD al 23,7%, il Movimento 5 Stelle al 10,1%, Forza Italia noi moderati 9%, Lega 8,5%, AVS 7%, Azione 3,2%, Italia Viva 2,1%, Pace Terra Dignità 1,8%, Più Europa 1,7%, Democrazia Sovrana Popolare 1,3%, Libertà Popolare 1%, Alternativa 0,3%, Altri Partiti 1%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.